Pulizia dei corsi d'acqua, arriva la risposta ai residenti di via Gelsia, nocera inferiore del sindaco Marlio Torquato. Il primo cittadino ricorda come si sia già mobilitato ed abbia bussato alle porte di regione e consorzio di bonifica. Abbiamo fatto un'ordinanza sindacale con la quale abbiamo ordinato alla regione, al genio civile regionale e al consorzio di bonifica di fare le attività che vanno fatte per la pulizia degli albi dei fiumi perché determinano quello che determinano. Ed il sindaco Torquato spiega anche che si è in costante contatto con la regione Lente Idrico Campano per provare ad accelerare i tempi per i lavori del sistema fognario. Siamo in costante contatto e con la regione e con l'ente Idrico Campano e col vecchio commissariato dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano per accelerare, non dipende da noi questo ovviamente, ma noi lo stiamo facendo, i tempi di realizzazione dei sistemi fognari complessivi, anche gli allacci dei collettamenti. Questa è una questione molto importante, su cui ci dovrebbe essere una mobilitazione seria di tutti e non una mobilitazione da tiro al piccione come qualche associazione punta a fare, sbagliando anche il bersaglio, giocando solo in modo poco preciso, voglio dire questo, non altro, rispetto alle amministrazioni comunali che sono intermediari in questa situazione, non sono quelle che debbano o possono realizzare né a norma di legge né per finanziamenti le reti fognari di collegamento. Quindi ci deve essere una grande mobilitazione comune che non vedo perché vedo che quando c'è in campo il comune e le associazioni non compaiono, compaiono solo delle volte per attaccare il comune. Questo non è serio, non è corretto, mi permetto di dire. Ma invece la direzione è quella della Regione, la direzione è quella del Ministero per l'Ambiente, cioè coloro che debbono su questo ambito, in questo campo intervenire, debbono intervenire, perché anche su questo le attività dell'amministrazione sono numerose, sono pressanti, sono con atti di diffide e di invito. Abbiamo stretto anche un protocollo di accordo per la chiusura della progettazione definitiva approvata ad aprile scorso dall'ente Idrico Campano per il primo lotto fognario, ma poi noi non possiamo fermare le acque, non abbiamo questo potere e questa facoltà.